allora stasera questa è una chicca per quelli che hanno problemi delle volte di piede, adesso questo non è sporcizia è la calza che perde, per chi ha delle volte problemi di odore di piedi, purtroppo il piede è soggetto a come si dice, a essere chiuso, a sudare insomma nella scarta così, questo qui è una confezione che non ha niente a che fare, è niente meno che la varechina liquida, la varechina liquida è quella poco matta, allora uno si contona bene un attimo al piede così, aspetta un attimo, dal tempo di legno fa niente, non bruciate, questa qui invece è la varechina, la candeggina, quella che si compra, che costa 80 centesimi, non so quanto sia, e bisogna darsi la tosse, vedete, c'è una reazione, fa una reazione chimica, come vedete, e praticamente la varechina con la candeggina vanno a pulire, cioè a staccare tutte le parti, purtroppo il piede è soggetto adesso, poi questo è l'inverno e si usa la, come si dice, la scarpa protetta, ma d'estate a volte si usa la ciabatta, si usa la scarpa aperta, senza calza, così, diventa un casino, poi ci si prende un po' di shampoo, un po' di acqua, e si danno una bella lavata, una bella lavata, qui si vede che si stacca anche in mezzo mondo, non fa male, ve lo garantisco al 100% perché, perché è già collaudato, eccetera, eccetera, cosa fa? ha di bello che va a levare quella, quella, quel odore che si forma purtroppo di, sono poi i batteri, no? che vanno a, diciamo, a creare questo, questo odore del piede, ed è un assurdo che ho, così, sperimentato, non so come, ridendo e scherzando, e ho trovato veramente valida, e la consiglio per chi ha questi problemi di sudorazione, di odore, di piedi, che si fa molto fastidio, perché io, sicuramente, non, non gradisco, infatti, dopodiché, è una bella asciugata, e la situazione è a posto, ok, un altro consiglio, sempre, della chicca, allora, ricordatevi, varecchina profumata, e varecchina, prima varecchina profumata, poi aspettate un attimo, e varecchina romana, spruzzatina, un inshamponata, con prodotto di vostro gusto, e poi si dà via, ok, a posti, oggi siamo al 12-12-2013, ciao ciao!